Il quinto classificato Luca Pedrini con 63 punti Luca Pedrini alle piedi del podio E ti becchi, e ti becchi Coppa e salame Coppa e salame Grazie Il quarto classificato Alex Scorpaniti 90 punti per lui E zona calda Mirko Modesti Terzo classificato in finale 94 punti per lui Una vittoria all'attivo, ovviamente quella di oggi Simone Caccamo Secondo classificato 97 punti E come potete notare Il primo Che è Andrea Campaci E si porta a casa Si porta a casa Un prosciutto offerto dalla ditta De Bosses Nella Val d'Aosta di San Remy a Bosses Il secondo classificato Simone Caccamo si porta a casa Mezzo prosciutto Oltre la coppa E il terzo si porta a casa La Lonza Che forse è anche più buona del prosciutto Allora Prendete in mano i prosciutti per favore Abbiamo bisogno di fare un po' di foto Abbiamo bisogno di fare un po' di foto per De Bosses E Andrea Campaci Da poter spendere entro gennaio Presso la BR A Rai Importatore A Rai Non li abbiamo materialmente Ma ci sono 500 ore a spendere Lo ricordo a tutti Chiaramente all'ordo di tutte le convenzioni Le promozioni già in atto Bene Liberiamo il podio E rimanete in zona Soprattutto Uno per le interviste L'altro Soprattutto